A CINEMATI 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 Specchio, specchio Delle mie brame. Chi è la più potente del reame? Se era in una favola che voi speravate, la vostra illusione ora abbandonate. Vi allenerete. Vi rafforzerete. Voi diventerete i miei cacciatori. Il potere dello specchio in premio andrà a chi tra le due forze la guerra vincerà. Chi sia giudicherà lo specchio sarà inarrestabile. Una coppia innamorata. Una regina cattiva sfidata. Un raddoppiato potere che nessuno ha mai potuto vedere. Abbiamo molto da fare, sorellina. Gli uomini hanno dimenticato cosa vuol dire aver paura. Ora lo ricorderanno. Ottima scelta. Non mancare il bersaglio. Non lo manco mai. Ciao, cacciatore. Mi sei mancato. Che intendi fare? Affrontare due perfide sorelle e il loro esercito? Sì, più o meno. Non, non, non. Qui cacciata? Non, non, non. Qui cacciata? Sì, più o meno ci sia, Grazie a tutti.